Eccoci qua, eccoci qua, invito per mercoledì 1 dicembre 2021 per vederci in uno spettacolo presso l'auditorium Fondazione Cassamarca a Treviso, uno spettacolo sulla sicurezza, la salute è la prima cosa, salute e sicurezza nel mondo del lavoro. Sì e no, nel senso che nel mondo del lavoro, ma nella fattispecie, nel mondo del lavoro edile, sempre sta roba, nel mondo del lavoro vostro insomma, è un'iniziativa nostra, mia e tua, diglielo, diglielo, di chi è l'iniziativa? Con partigianato, imprese, marca Treviso, non è roba nostra, quindi rinnoviamo l'appello a venire a vederci, 1 dicembre 2030 all'auditorio Fondazione Cassamarca a Treviso per uno spettacolo bellissimo, uno spettacolo serio con cose vere. Serio e facendo, no, facendo, no, facendo, serio ma non triste, ma non triste, triste su questi temi che sono molto importanti, spettacolo dal titolo, già il titolo è, Ciac, costruisci in sicurezza, già il titolo si fa male, già al dire, mi sono clapato il Deo, ci vediamo, smorsegato come.